Importavano falsi prodotti biologici con false attestazioni dall'est Europa. A quasi due anni dall'avvio delle indagini della Guardia di Finanza di Pesaro salgono a 35 le persone denunciate. Si tratta di un terzo step. Dopo i 15 arresti nella prima fase e i 4 nella seconda, ora, grazie ad ulteriori analisi condotte dal nucleo di Polizia Tributaria di Pesaro e dal nucleo investigativo dell'Ispettorato Repressione Frodi di Roma, sono emersi elementi di prova nei confronti di altri otto indagati, dita compresa tra i 29 e i 61 anni, e originari di Verona, Ravenna, Forlì e Bologna. La Procura di Pesaro ha esteso anche a loro i reati di associazione per delinquere trasnazionale, in quanto responsabili di aver promosso e partecipato, anche avvalendosi di società, ad attestare la falsa certificazione dei prodotti agricoli come biologici. I componenti del gruppo criminale sono stati denunciati, quali soci o amministratori di società, importatrici di merce o perché avevano il compito di controllare le certificazioni. Uno di questi malviventi era il rappresentante legale di una società fanese. A partire dal 2010 hanno immesso nel circuito del mercato biologico italiano ingenti quantitativi di granaglie, destinate agli animali e in alcuni casi all'alimentazione umana, tra cui soia, mais, grano tenero e lino, e provenienti sia da paesi extra Unione Europea come Moldavia, Ucraina e Kazakistan, che dalla Romania. Al momento sono state denunciate 35 persone sequestrate, oltre 2.200 tonnellate di granaglie, per un valore di circa 3 milioni di euro. Il GIP del Tribunale di Pesaro, Raffaele Cormio, ha emesso nei confronti degli ultimi otto responsabili il provvedimento di sequestro preventivo per l'equivalente di beni mobili e immobili, tra cui terreni, edifici, conti correnti ed autovetture, per un ammontare complessivo di oltre 26 milioni di euro che corrispondono all'illecito profitto incassato dall'Associazione per delinquere.